riguarda anche la realizzazione di grandi e medie infrastrutture quindi secondo me è arrivato il momento anche di scegliere Maurizio, Roma Metropolitana l'avete salvata allora voi del PD dalla furia dell'assessore Improta ma non è vero che è l'assessore Improta, a me non mi risulta questo lui ha fatto un'audizione in una commissione mobilità di qualche tempo fa in cui diceva che Roma Metropolitana andava chiusa addirittura era una delle ipotesi ma probabilmente l'assessore Improta ma poi c'è lui qui quindi non è che devo fare avvocato suo o interprete suo io il problema di Roma Metropolitana è quello che magari ha posto anche Massimiliano nel senso che questa struttura che fu creata anche questa con lo stesso spirito di risorse per Roma per rendere più velocizzare e quindi superare le lentezze della burocrazia comunale e quindi essere più spediti nella progettazione e nella risoluzione io ho fatto delle audizioni come tu stai sono presidente della commissione speciale ho fatto delle audizioni naturalmente e ti portano tutte le cartelle in ordine nel senso otto mesi di ritardo perché è cambiata la legge dei vigili del fuoco che quindi l'autorizzazione un anno e mezzo di ritardo perché si sono trovati due reperti per cui la sovrintendenza bisognava deviare il progetto rispetto a certo rispetto a tutte queste tematiche rispetto alla lievitazione dei costi abnorme qualche problema ce lo siamo posti tutti come nuova maggioranza che si è inserita dal comune avendo e sapendo di avere anche la responsabilità che non è che possiamo dire fermi tutti a Roma C se ferma dove sta perché se no sarebbe il fallimento più totale diciamo così e del progetto e della città e comprensivamente dell'amministrazione quindi con oculatezza Roma C ha una grande Roma metropolitana ha una grande professionalità al proprio interno penso che l'assessorato e la maggioranza vogliono rimettere mano sugli assetti una volta approvato diciamo così il bilancio in corso Roma metropolitana dovrà svolgere quella funzione effettiva, efficace per cui è stata creata a suo tempo e deve controllare meglio e più approfonditamente i costi di gestione che si sono sviluppati fino adesso quindi questo è l'impegno che abbiamo come maggioranza assumiamo di fronte alla città quindi il PD ha salvato Roma metropolitana quindi già questa è una notizia no, una cosa velocissima su Roma metropolitana perché insomma io ti ho attribuito una cosa che tu hai mentito e quindi no ma poi voglio sapere però velocissimi veramente se no non abbiamo il tempo perché mi dicono che dobbiamo chiudere io voglio sapere si fa un gran continua a farsi un gran parlare dopo questa roba di metropolitana della privatizzazione di ATAC una volta che verrà risanata ok quindi dell'ingresso dei privati eccetera qual è il tuo progetto su questa roba qui cioè se i privati sono una specie di diavolo da allontanare con tutte le forze oppure se possono una volta rimesso in sesso l'ATAC come sta tentando di fare Broggi si può anche parlare di un ingresso dei privati e con che quote veloce però e con che quote e se il controllo comunque rimarrà pubblico e con chi e poi una roba su metropolitana e soprattutto dimmi quali sono i tempi per arrivare perché la metro C arriva a Piazza Venezia Allora su Roma metropolitana non è stato esercitato in maniera adeguata da parte del Comune di Roma il cosiddetto controllo analogo quindi questo ha determinato sostanzialmente un atteggiamento di autoreferenzialità da parte del gruppo dirigente di Roma metropolitana il quale devo dire non ha nemmeno dimostrato una intelligenza tattica nel senso che essendo cambiata l'amministrazione si sarebbe dovuta mettere a disposizione del nuovo corso non ha ritenuto di farla motivo per cui io ho posto due un'alternativa o revochiamo i vertici o chiudiamo Roma metropolitana diciamo che il pendolo è andato a seconda un po' da una parte un po' dall'altra mi pare che nelle ultime ore ci si stia orientando su una revoca dei vertici è una revoca che poggia ovviamente su non dei capricci della politica ma su dei dati di fatto non si è mai visto che un organo che è strumentale al Comune di Roma faccia dei decreti ingiuntivi nei confronti del Comune di Roma rispetto a un atto di indirizzo che ha fatto l'assessorato dicendo il 30 settembre si apre la prima tratta funzionale che è da Centocelle a Pantano tu non poni in essere gli atti per arrivare a questo risultato ma secondo te perché? ma perché la gente è matta ci sta pure questo perché poi alla fine non sempre c'è la logica non sempre c'è il malaffare e comunque non aspetta a me andare a scovare il malaffare io prendo atto che rispetto a delle come dire a degli atti che abbiamo posto in essere abbiamo aspettato un anno abbiamo creato le condizioni con un accordo attuativo che ci ha rovinato tutta l'estate 2013 e ha chiaramente turbato anche anche grazie alla tua ex collega Morgante anche i sonni delle imprese subappaltatrici è chiaro che noi siamo entrati con una con una molteplicità di problemi adesso fortunatamente li stiamo li stiamo quantomeno li abbiamo messi tutti quanti in fila abbiamo prospettato delle soluzioni poi è la politica che deve decidere quale siano le soluzioni più opportune ATAC privatizzata il percorso che io ho messo per iscritto è che noi dobbiamo arrivare a un equilibrio economico strutturale entro il 2016 a quel punto ATAC deve rivolgersi al mercato per trovare un partner industriale e questo lo deve fare nella finestra temporale 2017 2019 perché nel 2019 l'Unione Europea ci dice che noi dobbiamo liberalizzare il servizio per cui noi dobbiamo creare le condizioni perché il tempo che ci abbiamo davanti lo dobbiamo sfruttare da un lato per risanare e rilanciare l'azienda di trasporto a quel punto renderla appetibile per un partner industriale che sia italiano come può essere il gruppo ferrovia dello Stato o che sia francese tedesco o di altra nazione poco ci importa a noi non ci interessa chi eroga il servizio a noi ci interessa che al cittadino di Roma sia possa godere di un servizio più qualificato il controllo pubblico sempre il controllo lo fa attraverso il contratto di servizio perché comunque parliamo di un servizio che dovrà essere sovvenzionato da risorse pubbliche e quindi che sia la proprietà pubblico privata questo non è importante importante avere un presidio manageriale forte per fare in modo che a quei soldi a quegli investimenti corrispondano i servizi attesi dai cittadini Piazza Venezia Metro C Piazza Venezia l'attuale cronoprogramma è 2020 io non l'ho manco preso in considerazione secondo me si può arrivare a 2018 il problema è che bisogna arrivarci con una struttura economico-finanziaria e con un presidio tecnico che io immaginavo di aver risolto a settembre 2013 quando io ho detto non è più il tempo degli avvocati è il tempo del lavoro adesso gli avvocati si stanno occupando di me invece che farli litigare tra Metro C e Roma metropolitana io spero che questa cosa la riusciamo a risolvere entro l'estate di modo che si possa traguardare Piazza Venezia per la quale abbiamo guadagnato 300 milioni di euro facendo partire il preesercizio il 15 di dicembre c'era c'era un ministro della Repubblica che si è messo a ridere quando io gli ho detto guarda che il 15 di dicembre io ti faccio il preesercizio noi il 15 di dicembre abbiamo iniziato il preesercizio abbiamo portato a casa 300 milioni di euro ovviamente non è detto che saremo in grado di tenerceli perché dobbiamo rispettare un cronoprogramma che è sfidante però intanto il primo risultato l'abbiamo portato a casa anche Lupi è sistemato allora io vorrei se voi siete d'accordo vorrei fare concludere l'assessore Cività perché mi fanno dei gestacci che dobbiamo chiudere c'hai una proposta su Metro B mi pare di capire la proposta noi abbiamo ma questo ne stiamo discutendo con in prota nel bilancio una serie di investimenti oltre anche la regione con partecipa allo sforzo per realizzare nei tempi dovuti la Metro C e poi ci sono un'altra serie di importanti infrastrutture più piccole che possono se impostate bene aiutare a realizzare quelle infrastrutture su ferro di cui Roma ha bisogno la regione per esempio il bilancio regionale c'è un finanziamento di 100 milioni per la Metro B la B1 sicuramente non sono sufficienti a realizzare tutto il tracciato della B1 però io credo che ad esempio uno stralcio funzionale su questo c'è un tavolo aperto noi dobbiamo utilizzarli queste risorse altrimenti le perdiamo e anche su questo magari uno stralcio funzionale va aperto in tempi rapidi va aperto il cantiere come dobbiamo verificare le risorse che abbiamo ancora in bilancio sia per il corridoio della mobilità di Laurentino che per il progetto che va modificato perché è un progetto che è per il progetto del prolungamento della Metro A da Nagnina il progetto le risorse che ci hanno lasciato è non per il prolungamento della Metro A ma per è praticamente un tram che costa come una metro quindi insomma un'opera che è sbagliata anche per il Ministero dei Trasporti lo stesso Ministero dal nostro stesso giudizio che Alemanno e Rapolverini volevano far andare verso la Tuscolana noi invece vorremmo utilizzare le risorse per prolungare contribuire a prolungare la Metro A così come prevede il nuovo piano regolatore del Comune di Roma sulla prima questione secondo me è possibile in tempi ragionevoli cioè alcuni mesi a fare un accordo tra il Comune e la Regione sbloccare i 100 milioni e realizzare un tratto della Metro B che comunque parliamo può servire decine e decine di migliaia di cittadini di Roma parliamo della Tiburtina quindi uno stralcio un prolungamento ulteriore della Metro B poi il resto poi si vedrà lo vedremo dopo invece sugli altri due stiamo studiando come poter utilizzare in modo migliore le risorse che ci stanno sono importanti risorse pubbliche e le risorse pubbliche sono sempre poche quindi concertiamo presto l'utilizzo di queste risorse per creare queste infrastrutture di cui Roma ha bisogno allora possiamo dichiarare la pace tra Improta e Civita stasera? perfetto grazie a tutti buonanotte questo era il dibattito tra il suo trasporto pubblico su Radio Roma Futura punto it adesso aspettiamo di chiudere la radmissione con un con qualche ospite che viene nel salotto magari Giandira grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti come stai? come stai? pronti? allora siamo di nuovo in diretta su Radio Roma Futura avete ascoltato il dibattito di trasporto pubblico ci ha raggiunto qui nel salotto della festa il consigliere comunale presidente della commissione di trasporti Maurizio Policato metro c metro c perdonami hai ragione vicepresidente della commissione mobilità allora se ti vuoi accomodare intanto abbiamo anche il consigliere Valeriani che sta arrivando allora io non ti faccio domande riguardanti il dibattito perché abbiamo i nostri ascoltatori vi hanno ascoltato e penso che hanno capito bene il messaggio ti volevo chiedere se ti piaceva la location della festa e come era stata la struttura da noi beh rispetto all'anno scorso secondo me è molto valido intanto ritorniamo vicino a Caracalla che era il posto tradizionale di questa festa e francamente a me l'altro anno la location vicino a San Paolo non mi era non mi aveva soddisfatto non mi era piaciuto qui fra l'altro anche in questo habitat eh non mi era piaciuto